La scuola è fatta per dare personalità, senza di essa non è possibile dare senso a nessuna professione. Questo sostiene Roberto Vecchioni, professore, cantautore e poeta, sempre attento alla crescita, alla formazione e al benessere educativo della comunità studentesca. Il professor Vecchioni sarà il prossimo ospite del liceo Piranesi di Capaccio Pestum, capofilla in campagna di Rete Sofia. Il cantautore incontrerà studenti, docenti e famiglie. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal coordinatore nazionale, professor Giovanni Battista Marrone, e della referente in campagna, professoressa Anna Maria di Bartolomeo, e piacevolmente sostenuta dalla dirigente Loredana Nicoletti, tutti convinti che la scuola debba puntare all'interesse degli studenti e offrire occasioni di crescita e confronto. Gli studenti infatti potranno conoscere, intervistare, dialogare con uno dei più grandi artisti e scrittori italiani che nella sua ultima fatica editoriale, La vita che si ama, affronta la sfida dell'essere felici partendo dalla profondità degli affetti attraverso pagine intrise di passione e intimità. L'incontro con l'autore si terrà a Capaccio Pestum presso il liceo Piranesi il 21 maggio 2019 nel pomeriggio con incontro adulti e il 22 maggio 2019 di mattino con gli studenti. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 22 euro con prenotazione diretta presso la signora Laura Scaperrotta o presso la professoressa Anna Maria di Bartolomeo o con bonifico bancario. Ai partecipanti sarà consegnato il kit composto da libro e CD, La vita che si ama, canzoni per i figli. Sarà rilasciato inoltre, a quanti ne faranno richiesta, attestato di partecipazione. I dettagli relativi ai singoli incontri saranno comunicati con successive comunicazioni. Considerato lo spessore dell'evento formativo, che richiamerà numerosi partecipanti e il numero di posti limitati, si sollecita chi volesse partecipare a iscriversi al più presto.